ciao benvenuti al consueto aggiornamento con l'indicatore Volta per quanto riguarda il gold allora ci eravamo lasciati con la fase ribassista ok il massimo l'avevamo previsto il primo per il che cavolo non si legge la data mannaggia l'avevamo previsto per il 20 di ottobre in realtà poi il mercato è andato fino al 27 di ottobre poi è iniziata la discesa così come da previsione e avevamo il minimo il 24 di novembre poi adesso cosa è successo come possiamo vedere l'algoritmo è andato a confermare questo quindi il minimo del 10 di novembre come minimo del ciclo da 20 giorni dandogli una durata di 30 giorni che se andiamo a vedere è assolutamente in media con i cicli precedenti da 20 giorni vedete 36 questo da 38 quindi in media con la durata dei cicli precedenti e la durata di un ciclo da 20 giorni in realtà dura mediamente 18 giorni arco tutto e come si dice tutto lo storico però è evidente che nell'ultimo periodo abbiamo avuto una dilatazione dei cicli perché perché aumentata la volatilità essendo aumentata la volatilità chiaramente intersecata col tempo se vogliamo dirla così è ovvio che abbiamo anche una dilatazione dei cicli quindi cosa facciamo tutte le date nel futuro ovviamente le possiamo spostare perché tanto sono nel futuro e a noi non interessa nel senso che non interessa in che senso nel senso che noi dobbiamo cercare di identificare movimenti del futuro una parte dei movimenti del futuro nel passato una volta che l'indicatore giustamente va a confermare un ciclo perché noi prevediamo la durata di un ciclo poi l'algoritmo lo va a confermare potrà essere un po dopo potrà essere un po prima o come è stato per molti mesi precedentemente quasi nel giorno esatto della previsione quindi al momento attuale il minimo l'indicatore lo ha confermato praticamente anzi direttore andato oltre perché eravamo ormai borderline l'ho confermato il 16 di novembre 2023 questo non può essere di 36 giorni però impossibile ecco perché perché era qua ok dicevo come fa a essere di 36 impossibile ok vado a dire se riesco a spostare queste cose mannaggia ok e quindi questo va messo qua dicevo come cacchio è possibile il 36 è oltre la varianza quindi minimo qua e questo qui in realtà l'indicatore lo ha battezzato qua quindi in dato il prezzo in dato oltre alla varianza ok quindi 30 giorni in questo caso non riesco neanche a vedere perché ci sono le scritte è stato di 15 questo è stato di e 22 quindi cosa ci aspettiamo facciamo una sorta di media siamo intorno ai 24 25 giorni in grosso modo di questo mini di questo ciclo quindi possiamo fare una proiezione molto probabilmente andremo a finire più o meno qua 34 anche meno quindi al di là di quello che adesso è sappiamo la durata media cerchiamo di capire che cosa ci aspetta il successivo picco che noi avevamo previsto per il 9 di novembre prima che come dico sempre ovviamente l'algoritmo andasse a confermare quella che era una possibile minimo in questo caso ha confermato al momento attuale il massimo si è spostato al 22 di novembre quindi c'è ancora spazio per questa fase di rialzo che per noi doveva iniziare il 3 di novembre ma in realtà iniziata il 10 quindi comunque avevamo previsto la fase rialzista che si sta verificando certo che la discesa a mio avviso doveva e poteva essere maggiore andiamo a vedere il ciclo da 40 giorni quando è previsto il minimo del ciclo da 40 giorno momento attuale è previsto per il 27 di novembre vado a rimettere il 20 giorni così lo andiamo a rinserire che è qua bisogna farci tornare l'analisi come le facevo prima 3 di dicembre invece il minimo del ciclo da 20 giorni prossimo massimo del ciclo da 20 giorni 24 di novembre è il picco del ciclo da 40 giorni e poi quello che il mercato ha confermato quindi confermato questo del 20 di novembre quindi cosa ci dobbiamo aspettare su base circa abbiamo 2.000 2 cicli che chiudono il tra il 3 e 27 di notte 3 dicembre 27 novembre quindi 7 bar 10 giorni ancora di fase ribassista quindi se da un punto di vista tecnico il mercato ci darà l'opportunità di cercare una fase ribassista la potremmo andare a prendere rottura della media mobile scusatemi della trend line del ciclo a dieci giorni chiaramente non possiamo più mantenere perché il mercato è andato a confermarlo qua il ciclo di dieci giorni quindi questa la leviamo perché non serve più ahimè a nulla a momento attuale abbiamo questo come picco del ciclo da dieci giorni forse siamo ancora un po' borderline ma andiamo a metterlo lo stesso propietà lo mettiamo marrone anche se secondo me non è ancora confermato hanno acceso la telecamera perché non avevo voglia di tirare il telo verde dietro e quindi adesso andiamo a vedere su trading view prima come sempre vi chiedo di mettere un like quindi per aiutare il mio canale a crescere anche per ringraziarmi dell'impegno comunque che ci metto perché tutti i giorni e analisi gratuite che a parte questo periodo dove effettivamente il mercato sta andando un po' troppo spesso e volentieri fuori fase cicca però arco anno è stato veramente molto molto precisa l'analisi che tutti i sacro santi giorni vado a fare in maniera gratuita e quindi dico un like che ce lo me lo posso anche aspettare meno merito ma si diciamo di sì sono paolo pesino mi puoi trovare sul sito tradingpartutti.com ti invito a visitarlo unirte al canale telegram gratuito rimarrà aggiornato sia con la mia operatività che riceverai anche analisi predittive che funzionano segnali in tre dei sul futures dax e nasdaq il mese più o meno uguale a ieri nel senso che oggi ho preso due break even nervoso che non vi dico long di dax mercato che non va a continuare a mangiarsi una candida dietro quell'altra 4-3 ore per fare 15 punti mi sono dato le balle dopo un po' ho chiuso l'operazione va bene così e nasda che invece abbiamo preso un bel ribasso pagato 28 punti chiuso a zero avevo il target in una decina di punti più sotto e poi mi sarei girato long perché io long non vado se mercato non ritraccia ok per me può fare 150 mila punti non mi interessa il mercato deve fare gli swing se no non entro quindi siamo ancora leggermente negativi 32 punti eravamo 38 ieri quindi già ieri venerdì giornata direi possiamo dire positiva perché non si è perso nulla ma veramente negativa che un mercato uno schifo il lavoro totalmente elaborabile per chi lavora in maniera seria cosa vuol dire seria con queste componenti che tutti dovrebbero cercare per me è un mercato che fa così io non entro qua 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 non me ne frega niente mi perdo mille punti fa niente tanto ho tutto l'anno a disposizione per me è un mercato deve fare questo perché devo entrare più o meno qua più o meno qua o se il mercato scende devo entrare più o meno qua più o meno qua non qua non qua non qua non qua soprattutto in una porcata come quella che stiamo vedendo in questi in queste settimane anzi in questi giorni io non trado fa niente questo servizio di segnali ok in tre dei non di un servizio di segnali per forza per me correre di quel prezzo è sbagliato a prescindere ho già pagato tante volte scelte del genere quindi aspetto che si verifichino le cose come si devono verificare e andiamo a vedere su trading view stiamo al minuto che non ho visto ho ancora 10 20 secondi a disposizione poi analisi deve chiudere e devo vedere su trading view gold gc quindi ho detto che abbiamo ancora tempo per cercare una fase di ribasso questo livello lo possiamo togliere perché il mercato se l'è mangiato completamente ecco che mi piace questa idea qua per me questa trendline tecnica normale niente di ciclo in questo caso rottura di questa trendline e rottura delle mie medie quindi le vado a mettere bianca e rottura delle medie ecco che secondo me un gold sotto 1.958 lo potremo prendere tra l'altro che abbiamo anche un po di profile con prossimo target 1.933 e poi successivamente se riuscirà a rompere quest'area che comunque un'area da prendere sieno con beneficio di inventario allora poi avremo come secondo target 1.885 abbiamo poco tempo a disposizione abbiamo anche volume leggera crescita quindi potrebbe confermare anche una possibile fase di ribasso ripeto tassativo sotto 1.958 prima non si fa niente se rimane a guardare se decolla chi se ne frega ma se deve essere chiudere qui sotto secondo me si potrebbe fare una bella operazione come primaria di target 1.931 questo è tutto ti auguro una buona domenica e una buona settimana ciao ciao